buonasera il popolo di youtube augurio che questa sera l'estratto 7 su bionotto cagliari palermo con gli abbinamenti che vi ho regalato ovviamente indiretando i scontrini in questo momento stiamo a vedere il primo ovviamente rambo secco perché 7 11 7 19 ognuno giustamente le ha giocate nel modo che ha ritenuto giusto un attimo ancora vediamo quest'altro in ambo secco con l'abbinamento del leonotto così come vi ho detto mi raccomando che domani dopo domani darò altri due abbinamenti però che a me se sapete l'estratto qual è il consiglio di giocare due ambi secchi è solo un consiglio ovviamente complimenti a tutti quanti voi buona vincita e buon incasso domani ciao da salvatore ciao